Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand della Micromic SRL e siamo in compagnia di Flavio Ciappetti, uno dei consiglieri di amministrazione dell'azienda e coordinatore della sezione Vending, buongiorno Flavio e bentornato dopo ben due anni Buongiorno Fabio, sempre un piacere parlare con te, essere intervistati da te, sei sempre un riferimento per il vending importantissimo E voi lo siete per la ricambistica, per la distribuzione automatica, che cosa è successo negli ultimi 24 mesi in casa Micromic? Sono successe tante cose, siamo sempre più presenti sul mercato italiano ed estero Una cosa fondamentale è che abbiamo cambiato la nostra sede, abbiamo preso un magazzino importante, 5.000 m2, semi-automatizzato Che fa sì che noi possiamo essere sempre più veloci e precisi nelle spedizioni e, diciamo, tra virgolette, fare il magazzino per i nostri clienti Quindi i clienti, gli ordini vengono evasi in 24 ore, vengono assegnati al corriere, come è opportuno che sia in questi tempi Una sede nuova, flessibile, adeguata alle circostanze che sono assolutamente certo, fra pochi mesi sarà anche un po' stritta per voi Non è assolutamente un cattivo augurio, al contrario il vostro lavoro certamente crescerà grazie al vostro impegno Diciamo che è una sede che al momento è comoda e spero lo rimanga per un po', visto che traslocare non è uno scherzo È stato un impegno importante, preso in primis dal nostro amministratore che crede nell'azienda, investe nell'azienda E quindi questa area giovane che ormai pervade la nostra azienda fa sì che siamo sempre in evoluzione Il nostro catalogo è sempre più ampio, stiamo ampiando anche la parte dei kit E cominciamo ad assiemare alcune parti così che i nostri clienti possano trovarle già come poi le devono utilizzare sul campo In maniera che facciamo un altro servizio per i nostri clienti Flavio, questo è già parte di quello che presentate in questa edizione 2024 di Venditalia Ma c'è ancora tanto altro di cui potremmo parlare? Insomma siamo diventati dei distributori per dei marchi importanti come De Longhi e come Gaggia Stiamo facendo un ottimo lavoro con loro e per noi è un freggio, è un riconoscimento della nostra azienda E diciamo non posso essere precisissimo ma il primo articolo della Micromic è diventato Per la prima volta un articolo della Micromic è diventato una parte del primo impiego di una grande azienda che produce macchine da caffè E questa è una notizia per noi molto importante, conferma le nostre capacità produttive che durano ormai da più di 40 anni nel settore dell'elettrodomestico E da ormai da 12 anni nel settore del vending, quindi è un know-how che ci portiamo dietro e che è sempre al nostro fianco e ci accompagna Nell'ambito della ricambistica voi siete davvero fortissimi, quanti sono i prodotti a catalogo che avete a magazzino tutti i giorni? Noi abbiamo più di 5.000 codici a magazzino sempre presenti, la giocenza c'è sempre Abbiamo un'evasione che sfiora al 100% degli articoli che vengono ordinati dai nostri clienti Anche perché noi diciamo che produciamo e vendiamo i prodotti che vanno di più, che servono di più E quindi possiamo assistere i gestori con la maggior parte degli articoli che acquistano di solito E che noi proponiamo a prezzi molto concorrenziali, questo ormai è riconosciuto La qualità è senza dubbio importante, abbiamo un reparto tecnico sempre presente, un reparto di ricerca e sviluppo Un tecnico interno del vending che forniamo come servizio ai nostri clienti E possono contattarlo per qualsiasi questione o per qualsiasi problematica che viene risolta in tempo reale Ebbene, io ricordo bene che 4 anni fa quando ho intervistato un tuo collega d'azienda I prodotti sempre a magazzino erano circa 4.000 Quindi c'è stata un'ulteriore evoluzione della disponibilità di prodotti sempre a magazzino E quindi questo garantisce la vostra autorevolezza in tal senso Flavio, qual è l'indirizzo e-mail per entrare in contatto con voi? Facilissimo, info-micromic.com Poi ovviamente verrete indirizzati ai nostri commerciali La nostra rete commerciale è molto presente sia in Italia che all'estero Tutti i territori sono coperti e quindi troverete sempre delle persone a vostra disposizione Anche per quanto riguarda eventuali personalizzazioni o ordini programmati Siamo sempre a disposizione Flavio Ciappetti, membro del consiglio di amministrazione della Micromic SRL E coordinatore del reparto vendita della sezione vending Grazie Grazie a te Fabio, è sempre un piacere sia professionale che personale Grazie a te Fabio